E ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video. Io sono Royd e oggi vedremo come ottenere il fucile unico raro di Ice Queen. Se non sapete dove trovarlo, al momento potrà essere ottenuto solo sconfiggendo Aurelia a Black Barrel Cellar. Di più su dove trovarla e come sconfiggerla a fine video. Detto ciò, cosa fa quindi questo fucile da cecchino? È un fucile da cecchino Jacobs, elementale, che è la cosa importante, solo ed esclusivamente gelo e quando fate colpo critico sparerà due proiettili a ricerca, che per qualche motivo in questo caso sono finiti su di me e questi proiettili a ricerca faranno danno splash, cosa anche questa rara per un'arma Jacobs. Detto ciò, direi che non c'è altro da dire, andiamo a provarli su Atenas. E sì, avete visto prima, fanno self damage. Intanto che stiamo arrivando, vi dico che qui in descrizione troverete il link alla mia vecchia guida, ormai più vecchia di un anno, su come trovare e sconfiggere Aurelia. In più, se non siete iscritti, iscrivetevi per non perdere tutte le mie guide nuove alle armi. Siamo quindi arrivati, la mia build va a potenziare il danno arma e il danno pistola, influenzerà la minima parte di quest'arma, vediamo come si comporta. Andiamo a testare contro un nemico. Assolutamente buono il fatto che congeli la veloce, ma rimango abbastanza in dubbio, perché il danno è penoso, molto penoso. Non riesco nemmeno ad eliminare il drone di questo nemico e la cosa è un po' triste. Proviamo contro un nemico normale. Praticamente un caricatore intero e mi manca ancora un colpo per due colpi, tre colpi, e ormai si è riscildato il nemico per eliminarlo. Questo cecchino purtroppo è bellissimo l'idea, è utile in early game quando lo si ottiene, ma fa assolutamente pene, non vi consiglio di utilizzarlo in late game. Detto ciò, quindi se volete invece utilizzare un cecchino molto ma molto forte, vi invito a cliccare proprio qui. Grazie. Grazie. Grazie.